Benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video, io sono Favij e oggi siamo tornati con un nuovo video dove vi racconto una cosina. Allora, questa è una cosa muy, muy, muy importante che mi è successa nella vita. L'avevo già detto perché avevo fatto un'intervista a riguardo, però volevo parlare di questo argomento ora che ho iniziato a fare video del genere, quindi trattarlo in maniera un po' più specifica. Ho sofferto di depressione. Bene, era novembre del 2020, ok? A novembre del 2020 sono caduti in depressione, punto. Per svariati motivi in realtà, ma non ce n'era uno in particolare, era proprio questo il discorso. So che a molti succede, e quando è successo a me, perché io comunque... Allora, finché non ti succede di soffrire di depressione, di avere un attacco di panico o cose del genere vedi sempre questa cosa, la vedi con occhi tipo mamma mia poverino, mi dispiace, chissà che cosa vuol dire. Cioè, tu ti vedi proprio estraneo a questa cosa qua, non vedi che chi ne parla dici mamma mia, che roba brutta, mi dispiace, eccetera. Non capisci realmente, perché dici mazza o meno male che io non ho questa cosa. E poi, da un giorno all'altro, incredibilmente succede a me, ok? E quindi da esterno, che vedevo sempre questa situazione, dicevo Cacchio, mi dispiace, che soffri di ansia, che c'è la depressione per questo, mi dispiace... Eh, pam! Mi è arrivata a me, dritta in faccia, ho detto Ah, ecco! Cosa significa? Bella merda! Bella merda! È iniziata a novembre del 2020, e si è conclusa più o meno, più o meno, ad aprile del 2021. Quindi è durata all'incirca, sì, boh, sei mesi, più o meno. Sei mesi tosti, molto tosti, perché io ho iniziato a non dormire, non mangiare, piangere, cioè ho avuto proprio un momento un po' di merda, che non mi era mai successo, per delle motivazioni che non esistono, cioè sostanzialmente, per delle motivazioni che mi sono creato da un giorno all'altro. C'è un articolo che parla di questo, magari se mi ricordo, ma non mi ricorderò mai, ve lo lascio nella descrizione, e magari si legge, perché poi molti mi avevate scritto l'anno scorso, quando si parlava di questo, e vi ringrazio. Insomma, spiegavo che la mia ansia non era portata, la mia depressione, ansia, tutto insieme, non erano portate da un motivo, ma da una serie di piccole motivazioni stupide. Io avevo paura di fare qualsiasi cosa, sostanzialmente, qualsiasi. Perché avevo paura delle ripercussioni che questa cosa potesse avere su di me. Ma di che tipo? Di tipo stupido, nel senso che avevo paura di uscire, e io faccio sempre questo esempio, perché una delle mie prime paure è stata questa. Avevo paura di uscire e di buttare qualcosa in un cestino, per paura che quella cosa cadesse fuori dal cestino, e siccome mi riconosce un sacco di gente fuori, avevo paura che la gente mi prendesse come uno che inquina. Ok? Sembra una cazzata, ma io vi giuro che ho sofferto di ansie per motivi stupidi. Ora, questo era per farvi un esempio, non è che mi è durata tanto, non è che non uscivo per questo. Era per farvi un esempio delle motivazioni che di base sono stupide. Le motivazioni per le quali sono andato in depressione erano tantissime, ok? Non ce n'era una, ce n'erano un milione, che una volta non erano un problema. Ci sono sempre state, ma una volta non lo erano. Improvvisamente sono diventate un problema, ok? Improvvisamente sono diventate un problema grosso, che non mi faceva dormire la notte, ok? E non me le sto a elencare tutte, perché molte intanto sono stupidissime. E altre sono comunque, diciamo, tutte legate al fatto che sono un personaggio pubblico. Quindi che quello che io faccio, purtroppo, ha una risonanza maggiore che se lo fa qualcun altro, ok? Perché io sono io, e quindi se io faccio pipì su un muro, esco sul giornale che ho fatto la pipì sul muro. Se tu fai la pipì sul muro, Massimo becchi il passante che fa, eh, non fate la pipì sui muri, eh, non si fa. Diciamo che, insomma, tutti i problemi erano derivati dal fatto di essere un personaggio pubblico. E quindi ho smesso di espormi. Ma non di ideologie, piuttosto, di tutto. Cioè, proprio, ma neanche nei messaggi di WhatsApp ai miei amici. Amici, proprio amici stretti. Non mandavo messaggi perché avevo paura che fuorviassero le mie... Pazzia. Cioè, ero diventato pazzo. Ma pazzo! Eh, non dormivo, non mangiavo. Bruttissimo. È stato orribile. Mi ha salvato la vita, in quel caso, fare intraprendere un percorso del quale non parlerò nello specifico perché, se no, viene fuori un video chilometrico. Però sostanzialmente il mio manager, il mio allora manager, Lorenzo, mi ha consigli... mi parlava da tempo di questo seminario, chiamano seminario, che ti aiuta, insomma, a instradare la tua vita. Questo seminario avrei dovuto farlo senza avere quei problemi lì, addirittura. Cioè, perché lo puoi fare sia che tu abbia... che io stia vivendo un momento brutto, sia che tu non lo stia vivendo. Infatti io volevo andarci da sempre, ma non ho mai avuto il tempo. Lì ho avuto proprio necessità di farlo perché stavo sotto un ponte. Cioè, proprio mentalmente stavo messo male. E quindi ho detto, devo velocizzare, devo fare questa cosa. E sono andato a fare questo seminario che si chiama Hoffman. Non vi parlerò nello specifico perché veramente ci sarebbero mille video da fare per raccontarvi bene l'esperienza dell'Hoffman. Sostanzialmente comunque un seminario intensivo dove lavori una settimana intera su te stesso, giorno e notte. Cioè, praticamente tu ti svegli e lavori su te stesso tutto il giorno e poi vai a dormire, il giorno dopo uguale. Quindi ti concentri su te stesso. Ne sono uscito nuovo. Ho distrutto la mia ansia e le mie paure di quel periodo, che sono durate sei mesi. Ho iniziato a dormire, a mangiare. Mi ha salvato. Perché non... Veramente stavo messo veramente di merda. E non vi sto a dire bene quindi che cosa succede, che cosa consiste. Però sostanzialmente ci sono delle pratiche attraverso anche la meditazione che ti aiutano. Io da lì ho riniziato a vivere e a star bene. Con la consapevolezza però che queste problematiche esistono. Perché l'ho vissute sulla mia pelle ed è stato molto brutto. È stato molto brutto perché sentirne sempre parlare ma non viverle mai di persona è un conto. Quando poi ci stai di mezzo, anche tu, sono un altro paio di maniche. Quindi è stato proprio un periodo in cui mi sono reso conto che c'è tanta gente che al giorno d'oggi lotta. Lotta per star bene. Perché magari non stanno bene con se stessi, con quello che vivono, cioè con quello che hanno intorno intendo. E quindi devono combattere questa cosa. Se stanno male come lo sono stato io insomma, adesso ho un tipo di sensibilità diversa nei confronti di chi magari soffre di depressione, eccetera. Si combatte la depressione. Si può uscire dalla depressione. Poi c'erano un miliardo di discorsi stupidi che ai tempi mi facevano. Anche magari persone a me vicine della serie Ah, ma con quella bella vita che fai, col lavoro che ti piace, quei guadagni che c'hai, che cazzo c'hai da... Non vuol dire... Non vuol dire... Cazzo c***o niente questo. Non vuol dire niente. Perché uno può essere depresso anche se ha tutto apparentemente, tutto dalla vita. Non c'entra in nulla. Perché ognuno vive le sue battaglie e ogni persona che incontrate vive le sue battaglie. Voi neanche lo sapete. Cioè, è anche per questo che tra l'altro dico che i soldi non fanno la felicità. Perché... Ci sono tantissime cose. Tantissime cose nella vita che possono influire sulla persona, sulla singola persona. Quindi non vuol dire proprio un c***o di niente. Comunque, la cosa migliore che ho fatto nel periodo in cui sono stato male e che continuavo a stare male, ma ho cercato di circondarmi di persone che mi volevano bene. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Mi ha aiutato tantissimo. E quindi, ricordatevi, non siete soli. Cercate sempre di confidarvi, insomma. di parlare dei problemi con qualcuno. Perché questa cosa aiuta moltissimo. Il cambiamento, il cambiamento però, deve partire sempre da voi stessi. Questo, questo sempre. Magari sono cose scontate, ma è giusto dirle. Perché, avendole vissute, sono proprio le cose giuste che ho fatto e che mi hanno aiutato. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate nei commenti. Eh... Se avete qualcosa da condividere. Eh... Io cerco di leggervi come sempre tutti, anche nei DM, qua su YouTube. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mi piace, ragazzi. E noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi! Ciao!